Ed eccoci qua carissimi amici, insomma buongiorno a tutti, Alessio si è infiltrato qua in un altro raduno insomma sapete che Alessio piace un po' infiltrarsi e finalmente sono arrivato qua alla città di Civita Castellana e la diretta Alessio sapete che la deve aprire, scusate un po' innanzitutto la luce perché insomma la luce da sempre un po' fastidio per il filmato devo sempre un po' fare prove contro prove, insomma ed eccoci qua carissimi amici intanto iniziamo sapete che Alessio l'alfista è l'appassionato di auto vintage, subito l'alfista appena arrivato che io mi sono infiltrato con la mia Giulia non so qua dove è finita la Simo, ecco guardate qua carissimi amici Civita Castellana, guardate qua, Raduno Alessio si è infiltrato ecco vi voglio far vedere, guardate qua carissimi amici questo fantastico GTV, guardate qua, Alessio doveva fare il filmato su quest'auto guardate qua nel suo splendido splendore, guardate qua, splendore davvero affascinante, guardate qua, vero spettacolo ragazzi guardate qua questo GTV 625, guardate, veramente un'auto formidabile, guardate qua carissimi amici la diretta di Alessio c'è sempre ed eccola adesso se trovo il pomeriggio chiedo l'ordine, guardate qua carissimi amici insomma, che volete dire di un'auto così, guardate le famose coupé di una volta, non i plasticoni di oggi, qua la vedete di plastica però insomma l'auto è un bel fascino guardate qua carissimi amici insomma, ecco Marvin vedi Alessio si infiltra nei raduni, bisogna filmare, guardate qua ecco ovvio che la Simo mi si è allontanata, sta facendo le foto, magari non mi ha visto che ho aperto la diretta guardate qua carissimi amici questo fantastico GTV, guardate 2.5, affascinante, c'è un po' di tutto qua ovviamente la Vespa non può mancare, sono tutte dietro di me, non può mancare, ed ecco qua, vedete lo specchietto con il casco ed ecco qua carissimi amici insomma, guardate qua, ecco vedete Alessio infiltrato, guardate il GTV e la Giulia, guardate qua insomma Alessio si è infiltrato subito nel parcheggio, guardate qua, insomma ormai non c'è più vergogna, guardate ragazzi affascinante, fantastico GTV, guardate qua, insomma e poi devo ricordare Thomas, insomma Thomas terzo classificato raduno Barber Day, insomma abbastanza raro, vi volevo far vedere Lanciappia, guardate qua la Lanciappia ragazzi ed ecco qua Marvin, guardate qua Lanciappia dedicata al mio amico Thomas, guardate qua fantastica Lanciappia ecco, tra la folla filmiamo, senza assolutamente vergogna ormai la redazione di Alessio insomma sta andando alla grande, guardate qua, fantastica Lanciappia per il nostro amico Thomas, guarda qua Thomas è tutta per te, ecco la terza classificata raduno del Barber Day e Alessio oggi la ricorda qua, qui a Civita Castellana l'ho trovata, appena ho visto la Lanciappia subito volevo filmare, guardate qua, carissimi amici, insomma la diretta, affascinante Lanciappia qua i proprietari non si avvicina mai nessuno, ecco, guardate ecco c'è il vetro aperto, faremo il dettaglio nell'interno, guardate qua, fantastica Lanciappia, ed ecco qua, per il nostro amico Thomas, terza classificata Barber Day, ecco, sentite il profumo del vintage, il profumo ancora dell'auto nuova, guardate con l'interno Lanciappia, non apro perché ho aperto subito la diretta, ma tanto basta che guardano Alessio, insomma capiscono, insomma che cosa stai facendo, sei pazzo? Pazzo sì, di passione, guardate qua carissimi amici, la diretta, adesso quando magari avrò più spazio la faccio aprire perché è anche molto scomodo, le auto sono strette, guardate qua, l'interno Lanciappia, guardate fantastico, per il nostro amico Thomas, primo piano, guardate qua, affascinante, veramente affascinante, guardate qua carissimi amici, insomma, ed ecco, Lanciappia, ecco, siamo nel centro storico di Civita Castellana, guardate qua, carissimi amici, insomma, e ve lo fate subito vedere come vuole Alessio, guardate qua, quando la nostra Italia c'era qua, che ormai l'Italia è finita, guardate qua, fantastica Lanciappia, ebbene, da qui chiudo, da qui chiudo il filmato, guardate qua, dove lo posso chiudere il filmato, vi faccio mandare un bel saluto alla mia Giulia, guardate qua, ed ecco qua la mia Giulia, guardate nel suo splendore, guardate qua Alessio, insomma, guardate, invece di farvela a casa, la ripresa ve la faccio qui nel raduno, guardate qua, tanto ormai già la conoscete, eccola qua la mia Giulia, guardate, fantastico, non poteva mancare il filmato, guardate qua, insomma, e da qua chiudo, e Alessio, la redazione, insomma, ha aperto, non potevo resistere, ci ho messo molto perché ho il sole contro, il sole del sole è sempre contro, ti dà fastidio per impostare la luce, è un po' un problema, guardate qua, ciao amici, alla prossima, ed ecco qua, ormai non va filmata soltanto la ruggine, ma la ruggine è anche ottima quando la trovi in mezzo allo splendore, lo splendore delle auto storiche, guardate qua, ciao a tutti, a presto!